Ecco, oggi mi è andata male. Non ti preoccupare, sbagliando si impara. Ma mi affugio di sempre. Quando tocchi il fondo non ti resta che andare in una direzione, l'altro. A volte mi viene da pensare che sia meglio lasciar perdere. No dai, non quanto escire. Ma va anche un aiuto di santo consigli. Sì, infatti, ora starò contento e ti accompagnerò sempre.